Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come trovare questo attacco fulgurante quindi ragazzi dirigetevi qui, troverete uno scarabeo che sta trasportando un riccio, basta che lo fate fuori e vi dropperà così questo incantesimo io vi consiglio di iscrivervi al canale perché ci sono moltissimi altri tutorial utilissimi che vi potrebbero servire così facendo potete mettere nell'inventario altri incantesimi, altre magie e altri genere di guerra quindi io ve lo consiglio anche di attivare la campanellina per non perdervi altri tutorial semplicissimi come questi quindi questo è l'attacco fulgurante, mi raccomando dovete usare un sigillo, qualsiasi sigillo, basta che lo usate bersagliate così un avversario che avete davanti e così facendo scaglierà così un bel fulmine, una bella scia di fulmine sul nemico ok? quindi ragazzi spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo e noi ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!